e amici all'ascolto ben trovati un saluto a tutti voi da parte mia da Marco Pennacchia questa è Radio Regione oggi parliamo di un tema importantissimo ricordiamo la Shoah lo facciamo con Alessandro Matt ricercatore e studioso della Shoah a cui voglio dare subito il saluto salve Alessandro buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie allora intanto io le chiedo di presentarsi prima di tutto la ringrazio per essere qui ma anche le chiedo di raccontarci come nasce l'associazione memoriale sardo della Shoah allora l'associazione memoriale sardo della Shoah nasce a Cagliari il primo settembre del 2011 e nasce con l'intenzione praticamente di dare una vera e propria forma a quello che è un interesse che coltivo praticamente da da molti anni perché io ho questo interesse storico e non solo insomma sulla Shoah e sulla storia ebraica da tantissimi anni fin da più tenera età si può dire perché avevo soltanto otto anni quando varcai insieme ai miei genitori le soglie di un ex campo di concentramento nazista il campo di concentramento nazista di Mauthausen e quella visita mi lasciò veramente molto sconvolto e vogli da allora insomma saperne di più fu un argomento che da allora attirò sempre di più la mia curiosità e negli anni diciamo ho coltivato questo interesse dapprima con varie letture e poi soprattutto con l'acquisizione e la raccolta di materiali audiovisivi fin dagli anni novanta praticamente raccolgo tantissimi audiovisivi su queste tematiche e anche tantissimo materiale bibliografico e documentale e la creazione dell'associazione memoriale sardo della Shoah il primo settembre del 2011 ha permesso di dare una vera e propria forma praticamente a questo interesse creando un ente all'interno del quale tutto questo materiale venisse conservato catalogato suddiviso e messo anche a disposizione praticamente del pubblico l'associazione è suddivisa in tre settori c'è una biblioteca di circa un migliaio di volumi un settore audiovisivi che forse è oggi la seconda collezione audiovisiva in europa più vasta su questi temi perché abbiamo raccolto oltre 10.700 titoli ad oggi sulla Shoah e sugli ebrei in generale di documentari fiction trasmissioni televisive e filmati di ogni genere è un archivio storico un archivio storico con centinaia di documenti storici originali cartacei fotografici audiovisivi audio eccetera e quindi l'associazione nasce appunto con lo scopo di dare una forma vera e propria a questo interesse è nel mettere a disposizione del pubblico non soltanto i materiali ma anche praticamente la mia disponibilità insomma perché io sono una persona anche che si forma su questi temi recontando numerosi seminari e corsi specifici di formazione in Italia e all'estero faccio solamente un esempio i seminari dello Yad Vashem i seminari del memorial della Shoah di Parigi gestiti dalla bravissima Laura Fontana se vi voglio ricordare a Rimini e quindi insomma tutto ciò ha permesso appunto di dare una forma appunto a questo interesse e l'associazione appunto è così strutturata. Sì tra l'altro c'è un sito molto interessante dell'associazione che è memorialedellashoah.it dove ci sono delle sezioni una dedicata appunto alla biblioteca una dedicata all'archivio storico poi c'è anche una sezione che è materiali e documenti dove ci sono dei pdf sulla bibliografia filmografia e sitografia quindi effettivamente il materiale è tantissimo per cui consiglio agli amici all'ascolto di andare appunto a curiosare sul sito che lo ricordiamo appunto è memorialedellashoah.it e lanciamo già un primo hashtag di questa nostra intervista che è proprio memoriale sardo della Shoah oltre a diversi che lei stesso poi mi ha suggerito quando ci siamo appunto conosciuti come per esempio ebrei sardegna o antisemitismo che sono parole chiave non solo importanti di questa intervista ma che dovrebbero essere ricordate sempre ovviamente non solo appunto a gennaio nella giornata della memoria ma penso proprio sempre e guardi io le voglio chiedere anche se visto che siamo appunto a dieci anni dalla fondazione appunto della vostra associazione se ci siano degli eventi anche nel prossimo presente oppure nel prossimo futuro proprio per dell'associazione stessa. Sì assolutamente c'è un evento in preparazione adesso mentre stiamo registrando questa intervista che si svolgerà domenica prossima alla biblioteca di Poggio dei Pini che tra l'altro voglio ringraziare per la magnifica ospitalità che ci sta concedendo perché domenica prossima 4 luglio sarà la prima nostra conferenza diciamo di ritorno in presenza dove ricorderemo tra l'altro un evento che ha a che fare con la sera dell'antisemitismo in tutte le sue forme e di compreso l'ostilità verso lo Stato di Israele perché ricorderemo l'operazione Entebbe ovvero il famoso dirottamento del volo Air France 139 Tel Aviv a Tene Parigi che fu dirottato da un gruppo di terroristi palestinesi e tedeschi insieme che dirottarono il volo verso Entebbe e qui compirono un vero e proprio atto nazista perché separarono i passeggeri ebrei dai non ebrei e misero letteralmente sotto ricatto lo Stato di Israele minacciando l'eliminazione di tutti i passeggeri ebrei e fu solo un blitz un blitz militare dello Stato ebreico che veramente questi passeggeri e anche il comandante del volo insieme a tutto il suo equipaggio che aveva scelto di sua volontà di rimanere con questi passeggeri tenuti in ostaggio e ricorderemo questo evento con il nipote di una testimone e il nipote di Net Moreno e alcuni spezzoni di un importante film di Menachem Golan sarà un evento misto in parte in presenza sotto prenotazione perché i posti saranno limitati in parte online e poi appunto siamo vicini ai dieci anni della fondazione della nostra associazione e pertanto prevediamo per il primo settembre una serie di eventi probabilmente nella stessa sede dell'associazione che si trova a Cagliari in via dei conversi dove appunto aprire al pubblico è sempre ovviamente insomma tenendo l'attenzione insomma per le norme anti covid mostrare quanto finora si è raccolto e metterci nuovamente insomma a disposizione delle scuole soprattutto delle università per percorsi di approfondimento che noi svolgiamo lungo tutto l'arco dell'anno con tantissime scuole sia in Sardegna sia fuori dalla Sardegna noi riceviamo chiamate anche eh dal Lazio da Trieste eh dal dalla Liguria insomma da tutta Italia letteralmente e quindi eh tante sono appunto le iniziative in in preparazione. Ecco io tanto la ringrazio anche per essere stato così soriente e per aver anche ricordato appunto l'episodio perché comunque mh lo ripeto un po' di memoria e di storia non fa mai male poi questo è un episodio che magari non è ehm non ha diciamo la rilevanza che mh magari hanno altri anche episodi che vengono più citati o magari anche più ricordati dal cinema e da altri eh dalla cultura. Ecco un'altra cosa che voglio lanciare è proprio cinema e Shoah perché lei appunto ha parlato anche del fatto che avete un archivio praticamente importantissimo il mh ha detto il secondo in Europa o il primo? Forse il secondo in Europa appunto più vasto su queste tematiche con oltre diecimila titoli e tra l'altro a proposito delle iniziative future voglio ricordare anche un altro fatto che viene eh pubblicato sulla stampa in questi giorni. Eh insieme praticamente a Paola Farina un'altra ricercatrice indipendente e mia carissima amica che si trova a Vicenza eh siamo eh insieme in un nuovo progetto che è quello delle pietre d'inciampo per chi non può. Ovvero ci mettiamo a disposizione di tutte quelle famiglie che finora non hanno potuto a livello burocratico o a livello anche economico insomma avere eh fare richiesta delle famose pietre d'inciampo, quei famosi sampietrini che vengono messi davanti agli ultimi indirizzi eh da dove vennero presi gli ebrei prima di essere deportati e assassinati nei campi di sterminio ebbene eh siamo appunto in questo importante progetto per dare una pietra d'inciampo a chi non può eh insieme appunto a Paola Farina nella città appunto di Vicenza. Paola Farina segue da tanto tempo eh le mie ricerche e tra l'altro ha fatto dono all'associazione di tutto il suo eh patrimonio documentario raccolto in anni di ricerche storiografiche. Quindi c'è anche proprio un fondo relativo proprio alla città di Vicenza nella nostra associazione oltre a raccogliere tutta la memoria di quello che la Sardegna ha subito negli anni della Shoah. Non c'era una comunità ebreca organizzata ma c'erano tantissime famiglie ebree per lo più miste ebrei che avevano scelto di sposare dei non ebrei e stabilirsi in Sardegna e eh molte di queste famiglie hanno subito persecuzioni o hanno avuto parenti anche eh anche fuori dall'Italia che hanno subito eh lo sterminio. Ricordo solamente la città di Sardegna. Abbiamo due storie particolari. Zaira Cohen-Ridi eh espulsa dal liceo eh dal liceo eh Azuni dove insegnava scienze e eh assassinata da Auschwitz-Birkenau nel 44 dopo essere stata deportata e arrestata in Toscana e i coniugi Ottolenghi i cui suoceri i genitori della moglie erano nel ghetto di Varsavia e spedirono una decina tra cartoline e lettere dal ghetto di Varsavia a Sassari alla figlia prima di finire assassinati nel campo di sterminio di Treblinka nel agosto 1942 quindi una vicenda che collega la Sardegna al ghetto di Varsavia è un qualcosa insomma su cui riflettere non poco. Assolutamente ecco io la voglio ringraziare per questi aneddoti ovviamente ricordo la pagina associazione memoriale Sardo della Shoah l'abbiamo vista sempre in sovraimpressione le ricordo che può anche condividere il video della nostra intervista qualora lei lo volesse anche per sensibilizzare ancora più gente rispetto a quella che siamo riusciti a raggiungere già con questa nostra chiacchierata. Io la voglio ringraziare ecco quindi faccio di nuovo un ringraziamento Alessandro Matta ricercatore e studioso della Shoah ovviamente quando vuole tornare a trovarci eh sarà appunto ben accolto. Assolutamente assolutamente magari per fare qualcosa di più vasto insomma se riusciamo a fare qualcosa speciale in futuro eh anche con altri ospiti io sono a disposizione. Assolutamente. Grazie ancora allora. Grazie Marco. Dunque amici noi siamo giunti al termine anche di questa nostra ulteriore tappa però rimanete con noi perché siamo per tornare con nuove storie. Ciao a tutti. Allora eccoci qua eh. Intanto io le volevo chiedere come si fosse trovato. Abbastanza bene grazie. Ok quindi sapeva come si dice se non cioè le chiedo ecco perdoni ho rivolto il nastro se fosse stata la sua prima intervista. No 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 non è la prima intervista è già capitato sia televisiva sia radio assolutamente. Sì no ma si vede che comunque è molto fluido eh è una cosa che ripeterebbe che rifarebbe? Assolutamente sì. Ok. Una cosa che le devo chiedere adesso è se lei mh fosse stato informato del video cioè che può richiedere effettivamente il video dell'intervista. Sì 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 ho visto e devo un po' vedere anche con le nostre finanze. No certo no no ci mancherebbe. Io lo chiedo solo per vedere se vi eh si è arrivata l'informazione correttamente e mh le dico anche se ritiene indipendentemente dalla scelta che farà che possa essere utile per pubblicizzare la vostra attività insomma. Assolutamente sì. Ok.